Buongiorno a tutti. No ma sei in tutti i paesi, non è che non c'erano paesi. No, no, siamo in tutti. Non ci alleniamo. Hai fatto retina? Non è usato. Credo che sia. Ho capito ma lo vediamo. Sarà un rettore. È lavorissimo? Quattro anni. Quattro anni. Una persona che decide dovrebbe decidere giocare. Non avrebbe ancora più il futuro. Perché ci sentiamo risposta. Non so. No. Grazie.